Mentre i primi 56 italiani sono tornati in patria con un volo militare partito da One e atterrato a pratica di mare, tre ricercatrici dello Spalanzani di Roma sono riuscite ad isolare il coronavirus, passo fondamentale per sviluppare terapie ed un possibile vaccino. La più giovane di loro, Francesca Colavita, ha 30 anni ed è originaria di Campobasso, precaria come tanti ricercatori italiani. Allo Spalanzani ha un contratto a tempo determinato in scadenza e lavora per meno di 20.000 euro l'anno. Il virologo Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale di Pescara e coordinatore della Task Force abruzzese, spiega ai nostri microfoni cos'è il coronavirus. L'incidenza di morte è bassa. Questo coronavirus è un virus respiratorio che ha la capacità di determinare con i suoi recettori per il polmone potenzialmente un'infiammazione polmonare molto importante che va fuori controllo in alcuni soggetti determinando un danno polmonare purtroppo irreversibile data la mancanza di cure specifiche per questa condizione. Cioè la terapia è solo di supporto, è antinfiammatoria e di aiuto alla ventilazione, però non può essere risolutiva in tutti i casi. Il tasso di mortalità è intorno al 2%. Questo da una parte è una cosa che tranquillizza perché insomma voglio dire è una condizione meno grave della SARS che dava il 12% e della MERS che tuttora sta dando intorno al 35%. Però è una cosa che non è del tutto buona. Cioè vuol dire che sebbene i malati prima o poi vadano a sviluppare un quadro clinico che può essere meno grave ma comunque sintomatico ci sono parecchie situazioni, molte persone che per un periodo di 5, 6, 7 giorni possono portare la condizione in modo sintomatico anche se poi svilupperanno la fase sintomatica e quindi diffondersi nel mondo. Quindi il timore che questa bassa mortalità ci dà è che se noi non mettevamo quell'allerta adeguata per tempo, la distribuzione nel mondo di queste persone potesse essere facilitata proprio dal carattere un po' più benigno della malattia. Però quello che ci tengo a sottolineare in questa circostanza è che c'è stato uno scambio talmente tempestivo di informazioni che tutti i sistemi occidentali sono stati allertati. Tornando invece con nazionali rientrati oggi in Italia dalla Cina, tra i quali c'è anche lo studente pescarese Lorenzo Di Berardino, dovranno restare alla cecchignola in quarantena per altre due settimane prima di poter tornare ciascuno nella propria abitazione. Nel centro militare di Roma è stato allestito intanto un apposito campo dove dopo i primi controlli allo sbarco saranno monitorati per i prossimi 15 giorni. Non siamo riusciti a vederlo, ci hanno comunicato che non è possibile per il momento incontrarlo e che ci avrebbero fatto sapere qualcosa nei prossimi giorni. Ci parliamo tranquillamente via messaggio, via telefono con Lorenzo che è tranquillo, un po' scombussolato da tutte queste due giornate, insomma un po' tumultuose, però lui sta bene, sereno, tranquillo, ci ha confortato molto insomma sentirlo e soprattutto vederlo arrivare in Italia. E mentre più del contagio si sta diffondendo la paura e la caccia immotivata al cinese, nelle farmacie scarseggiano le mascherine nel tentativo anche questo del tutto immotivato di difendersi da un virus che al momento desta allerta e non allarme. Anche su questo il dottor Parruti invita tutti alla calma e a non farsi prendere dalla psicosi. Qual è la verità sulla mascherina? Se un malato potenzialmente contagioso porta la mascherina e io sono a un metro come siamo io e lei di distanza in questo momento non c'è nessun rischio di contagio, cioè la mascherina è altamente protettiva. Quello che sto raccomandando a tutti non fate incetta di mascherine però nelle farmacie perché altrimenti se qualcuno ne ha veramente bisogno poi non la trova. Quindi che io abbia a casa 50 mascherine quando non sono io a dover difendere la collettività sto facendo solo un aggiottaggio contro il bene pubblico. Quindi vi raccomando la mascherina serve ma serve se serve quindi lasciatela in farmacia per chi ne ha bisogno.